Fate schifo Fate schifo, maledetti Mamma non posso sbattere che sono le 22.55 di sera Perché sennò avrei spattuto già qualcosa Porca miseria, porca miseria Come si fa, come si fa, come si fa a fare Sempre lo stesso errore, ogni cazzo di anno E sempre che si sottovaluta la Coppa Italia, sempre Ne avete rotto le palle Ogni anno sempre sto turnover Ogni anno Ogni anno Sempre con quella goccia dura Sempre con quella goccia dura Ogni anno Ogni anno sempre lo stesso errore Nel terzo anno di fila che usciamo aiutare di Coppa Italia Nel terzo anno di fila Mi avete rotto Non ve neanche salutato, buonasera Perché sono incazzatissimo Sono incazzatissimo Ne ho per tutti, dal primo all'ultimo Ogni anno sempre sotto la stacazzo di Coppa Italia Ogni anno Ogni anno È il terzo anno di fila che usciamo dalla Coppa Italia È il terzo anno di fila che bistrattiamo Bistrattiamo Non ve neanche le parole stasera Bistrattiamo una competizione Senza motivo Fatevi schifo Non si possono prendere tre pere Con tutto il rispetto Per quello che sta facendo Ma non si possono prendere tre pere Da una squadra ne ho promosso in Serie A Non si possono prendere Se anche è cosa tua Fai schifo Vergognati Vergognati Non si possono prendere tre pere In casa proprio dal pro sinore Con tutto il rispetto Che stanno facendo benissimo Ma non si possono prendere tre pere Da una squadra ne ho promossa Rendetevi conto Rendetevi conto Rendetevi conto Quanto fate schifo Male Male Dal primo all'ultimo La gestione dei campi Mazzarri Non ci ha capito niente più C'è C'è Allora Di Lorenzo a sinistra Parliamo di questo cambio Di Lorenzo a sinistra Che invece di togliere Alzanoli Che non ha fatto nulla Anche lui schifo Dal primo al novantesimo minuto Dal primo al novantesimo minuto Nessuno A parte Cajust Cajust è il migliore Nessuno A parte Cajust ha giocato bene Tutti schifosi E poi parliamo Di Lorenzo a sinistra Di Lorenzo a sinistra Ma cosa cazzo mi combini Invece di togliere Alzanoli Di Lorenzo a sinistra Ma Mazzarri cosa fai? Cosa fai? Anche tu ci hai capito niente? C'è Con tutto il rispetto Veramente Per il pro signore Che è una grande squadra E che ha fatto anche ora Lo 0-4 Ma porca di quella miseria A lui Non si può Non si può Anche lo 0-4 Quei live Ci siamo peccati Non si può Non si può Signori Non si può Perdere 4-0 Ma ha fatto pure un bel gol A lui Altra distrazione Di una difesa Orrenda 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 Difesa Orrenda Primo gol Di Barre De Cea Calcio in angolo Nessuno salta Nessuno marca 1-0 Secondo gol Di caso Passaggio Orrendo Di Di Lorenzo Orrendo Come cazzo fai A fare quel passaggio Ero vabbè Caso mi importa 2-0 3-0 Su rigore Causato da un Orribile Di Lorenzo Appena entrato Che fa fallo Che dita lo batte Centrale 3-0 Poi col 4-0 De lui Fammelo vedere Altra distrazione Difensi Io Non si può Non si può Prendere 4-pile Con tutto il rispetto Con tutto il rispetto Non si può Prendere 4-pile Dal Frosinone Che sono una bella squadra Complimenti a loro Oggi hanno stradominato Nel secondo tempo E hanno strameritato Il passaggio del turno Ma non si possono Prendere 4-pile Da una squadra Neopromossa Fatemi Schifo Fatemi Schifo Dal primo all'ultimo Vi dovete Fare Schifo Vi dovete Fare Schifo Sempre con sta capatura Di senso Torno Nella Coppa Italia Sempre Senza motivo Senza motivo Mi fate incazzare Ma io non lo so Chiudiamo qua Perché se no Questo video durerebbe 27 minuti Chiudiamola qua Basta Fate schifo Fate Schifo Grazie a tutti